Applausi, patolo, esordienti allievi e già qualche dera pato nel fango, qualche dera pato nel fango e già la caduta, attenzione, 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 prestare la massima attenzione, prestare la massima attenzione. Applausi, attenzione, 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 attenzione Francesco Labbrozzi si sbarazza di Antonio Folcarelli, Francesco Labbrozzi, applausi anche ad Antonio Folcarelli, la matricola di primo anno della categoria allievi, che gara tra i due, Diego Guglielmenti, forse il cycling team, stop stop, applausi, attenzione Antonio Meccarello che ha atleta campano, signori qui ci si gioca il titolo regionale, attenzione. Applausi per la partenza della categoria Juniores, nati nel 95 e nel 96, guardate con quale impeto ci sono anche le donne, Crizia Ruggeri, l'atleta pugliese, Master 4, 5, Master Over, applausi, ecco. Anche le Master donne, ci sono anche le donne Master in questa batteria. Va forte nel ciclo cross, applausi a Michael Cavati, stop stop, applausi, attenzione, ne sentiremo parlare anche lui, torna a rivestire la mani di campione regionale in carriera per Simone Perna, lui per quanto riguarda la categoria Juniores. Intanto salutiamo anche Crizia Ruggeri che termina la propria fatica, l'atleta classe 88 della provincia di Bari. Lazio, Campania, tributo alla Puglia, tributo all'Univers di primo anno, la matricola, Mauro Piccolo, applausi. Stop stop, per Gaetano Cavallaro, procede di cicli perna, stop stop. Attenzione, Viaggio Palmisano Teti, attenzione, signori, sta arrivando il più rappresentante della categoria Master. Viaggio Palmisano, applausi, numero 128, e bravo a Antonio Teti, campione regionale dello scorso anno. Ma che bella gara di un altro figlio d'arte, Daniele Panzarini, da Latina, applausi, con il numero 107, Drake Team LV Sport Torfado. Sportivi applausi, cominciano gli Elite Under 23, vediamo Acquaviva, Pedante, Acquaviva, Pedante, Mozzillo, Salsa, Mistelli. Acquaviva, Pedante, Mozzillo, Salsa, Mistelli. Applausi, guardate la maglia tricolare di Massimo Porcarelli. Guglielmetti, e poi via via gli altri, con Cavaliere. Protagonista indiscusso sugli strati di Amorosi, Massimo Porcarelli da King Max, due giri alla conclusione. Seconda uscita stagionale nel ciclocross per Massimo Porcarelli, che è stato anche in alcune gare selezionato da Fausto Scotti per la Nazionale Azzurra. Eccolo, Francesco Acquaviva, transitare sotto lo striscione di arrivo, con due giri alla conclusione. Il Neo Under 23, Francesco Mozzillo, che è il campione regionale uscente nella categoria Juniores. Applaudiamo una performance extra-regionale, dal Lazio, capire italiano, europeo mondiale fuoristrada, del King Max, Massimo Porcarelli. Attenzione. Prova. È arrivato Francesco Acquaviva, è arrivato con un ritardo di circa un minuto e mezzo.